Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo tutti i segreti della nuovissima Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri. Scusate l'emozione, ma è difficile trattenersi davanti a cotanta meraviglia, perché l'Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri, diciamoci la verità, l'abbiamo sognata, l'abbiamo bramata, l'abbiamo desiderata, l'abbiamo anche criticata perché sembrava non dovesse arrivare mai. E invece eccola qui in tutta la sua italianissima maestosità, finalmente ce l'ha fatta a trasformarsi in un sogno reale e presto la vedremo sulle nostre strade. Lei è diversa, molto diversa dalla Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri, che vi ho già raccontato in un altro speciale. In quel caso c'erano solo due esemplari che in questi anni sono stati utilizzati per scopi di rappresentanza o occasionalmente per il trasporto super urgente di organi. Qui invece è una storia tutta diversa perché la nuova Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri è una vera gazzella operativa del nucleo radiomobile. Pensate che ne sono previste 1770 così, quindi molto presto queste meravigliose auto invaderanno le strade di tutto il nostro paese e le vedremo sfrecciare di nuovo in Italia. È un piacere perché era da tempo che i Carabinieri non avevano un Alfa Romeo in divisa, l'ultima è stata la Giulietta, ma in quel caso era un'auto diesel a trazione anteriore. Insomma qui invece abbiamo la regina di tutte le berline. Quale hanno scelto? La versione a benzina, 2000 multi-air, 200 cavalli con il magnifico cambio automatico ZF8 HP e il miglior convertitore di coppia, ve lo ricordo sempre, specialmente quando tarato in maniera esemplare dagli ingegneri italiani. Trazione rigorosamente posteriore e anche qui abbiamo tante notizie. Le ultime gazzelle dei Carabinieri erano praticamente tutte diesel, anche le Alfa Romeo, la Giulietta per esempio, 1620 cavalli multijet, oppure anche, chi se le dimentica, le mitiche 159 con il 2004 GTD 5 cilindri in linea. Ora si va a benzina e si va soprattutto a trazione posteriore. Sono davvero felice che le gazzelle siano tornate a sfoggiare il marchio Alfa Romeo con la migliore Alfa Romeo degli ultimi tempi, un allestimento che va dal sodo, un cerchio da 17 molto elegante, molto italiano nella sua sobrietà e poi fari, guardate, sono alogeni, non abbiamo gli xeno. Ma iniziamo a vedere cosa cambia rispetto a una Giulia stradale. Beh, intanto la riconosciamo subito da questa livrea inconfondibile, ce la invidono in tutto il mondo. So per certo che gli stranieri quando vengono in Italia, eh beh, le riconoscono subito le auto dei carabinieri, soprattutto poi se sono Alfa Romeo, proprio sono entrato a far parte dell'immaginario collettivo. Quando si pensano un po' alle stereotipi dell'Italia, ci sono anche loro, le Alfa Romeo dei carabinieri, con questo colore blu istituzionale, così si chiama, magnifico, scritta Carabinieri sulla fiancata, come giusto che sia, e soprattutto il simbolo delle gazzelle esposto in questo scudetto con tanto orgoglio italiano. E io non sono felice. Come sempre vi racconto però, nelle puntate dei mezzi speciali, quando si hanno veicoli di questo tipo, qui conta tutto, meno che il veicolo donatore in questo caso. Perché sì, di fatto, questa è una Giulia stradale, 2000 benzina, 200 cavalli, 330 newton metro, un'auto che può spingersi fino a 230 chilometri orari, però qui è l'allestimento che fa la differenza, e cioè tutte quelle modifiche che la trasformano da Giulia in mezzo speciale. E quindi io ho l'onore assoluto di entrare, di calarmi a bordo, e quindi, come sempre, io vi porto con me. Basta un gesto per accorgersi che siamo in presenza di una Giulia diversa da tutte le altre. Questo, aprire una portiera, vi assicuro che è molto più pesante rispetto a uno sportello tradizionale. Il motivo è presto detto, questa è una portiera blindata, livello di blindatura B4. In particolare, la Giulia dei Carabinieri ha parabrezza blindato, livello B4, che ritroviamo anche sull'intero sportello. Il finestrino anteriore è antisfondamento e antifragmentazione, mentre le finestrature laterali sono antisfondamento, così come il lunotto. Quindi, voi capite, tutti i vetri qui sono stati sostituiti. Perché parliamo di portiera blindata? Lo capiamo subito. Il pannello porta è completamente stravolto rispetto a quello della Giulia di sempre. In particolare, è molto più spartano, qui i militari possono mettere degli oggetti pratici. C'è il buco, per esempio, per la paletta, qui per fermare un veicolo sospetto. Ma c'è un pomello, con tanto di freccia rossa, che mi dice Ehi Matteo, perché non mi tiri verso l'alto? E quindi io, beh, lo tiro verso l'alto. Vediamo cosa succede. Tac! E scende questa protezione, di solito è in Kevlar, per proteggere i militari in caso di un conflitto a fuoco, dove possono appunto servirsi della portiera proprio come scudo. Per questo si parla di portiera con blindatura B4, perché vedete, dagli arti inferiori, dalle gambe, il militare è protetto almeno fino al petto. E poi un'altra cosa curiosa, questo lembo di pelle rossa, l'avevo già visto sulla Giulietta dei Carabinieri, un antico metodo semplice ma efficace. Va a inibire i comandi dei finistrini posteriori, così non c'è rischio di abbassarli magari quando si sta scortando qualcuno in caserva. Ma già che siamo qui, la porta è aperta, la Giulia è qui tutta per noi, saliamo. Finalmente si può salire a bordo. Sono seduto proprio dove ogni giorno, molto presto, 1770 Carabinieri daranno vita a questa Alfa Romeo Giulia e quindi ancora qui corro sul filo dell'emozione. Intanto vedete la plancia della Giulia, che è sempre elegante, è sempre, devo dire, di gran livello, di gran gusto. A me piace ancora tantissimo il volante, però queste sono tutte cose di serie. Eppure qui le modifiche dell'allestimento sono andate a incidere tanto sull'Alfa Romeo Giulia. Intanto vedo la cornice del vetro blindato, che devo dire fa un certo effetto, e poi vedo una luce, per esempio lì, sul montante, che permette al collega di leggere dei documenti, per esempio di notte. Ma veniamo al sodo, tunnel centrale piuttosto stravolto. C'è una bellissima finitura, la bandierina italiana, anche questa la trovo proprio perfetta. Si sposa alla perfezione con la Giulia dei carabinieri, però abbiamo l'immancabile radio, devono essere sempre in costante contatto con la centrale operativa, quindi da qui loro possono parlare. E eventualmente le auto possono anche essere allestite con dei sistemi tecnologici aggiuntivi, per esempio il sistema Audino, l'avevamo visto sulla Giulietta, un tablet che attraverso una telecamera inquadra i veicoli presenti sulla strada, ed è in grado attraverso la targa di capire se sono assicurati, rubati, e quindi dare una grossa mano ai carabinieri. E poi abbiamo il pod, questo telecomando che permette ai carabinieri di attivare tutta una serie di funzioni fantasmagoriche che io adesso vi vorrei mostrare. Beh, intanto un altoparlante per parlare con l'esterno, non si sa mai. Ciao a tutti, Automoto, Matteo Valenti, fermi. Funziona. E poi il pod, vedete che io lo chiamo sempre il paese dei balocchi, quando si parla di mezzi speciali, molto simile a quello anche che abbiamo visto in un'altra puntata sull'ambulanza, vediamo cosa si può fare da qui. Intanto da questo comando si accendono le luci esterne e da quest'altro la sirena. Non ho qua i carabinieri che mi monitorano, quando mi ricapita lo faccio e lo dedico a tutti voi. Giù tutto. Sempre non abusare di questi sistemi. E poi però altri tasti molto interessanti. I carabinieri possono sganciare al volo la beretta PM12, che è sempre qui l'arma di ordinanza automatica, che è sempre qui ai loro piedi. Ovviamente adesso la macchina non è fornita, è scarica. Da lì si possono sganciare, ma c'è anche una serratura meccanica di sicurezza. Quindi state tranquilli, non è che se trovate una porta aperta schiacciate viene via la beretta, perché ovviamente c'è un blocco elettromeccanico. E poi ancora da qui si può governare tutto il pannello nuovo, di nuova concezione, super aerodinamico, a messaggio variabile. Quindi lo si può estrarre e si possono far comparire diversi messaggi per la sicurezza anche degli automobilisti che sopraggiungono. E poi ancora tiro su il mio naso e cosa vedo? Beh, un altro comando, anche qui. Da qui posso comandare la luce brandeggiabile che ho sul tetto. Quindi i militari possono stare in sicurezza e andare a illuminare. Ovviamente quando c'è scarsa condizione di visibilità, di notte al buio, possono andare a illuminare, no? Un'area dove devono fare chiarezza. Sempre stando a bordo, sempre stando in sicurezza. Con lo stesso principio, qui c'è un tascone dove possono riporre i giubbetti antiproiettili. Quindi la filosofia è quella. C'è un'emergenza, bisogna intervenire, non si sa cosa si trova sul teatro operativo. Bene, mi preparo stando al sicuro, stando in macchina. Mi vesto qui e soltanto quando sono pronto a qualsiasi evidenza esco. E comunque ho anche le mie portiere blindate. Due torce, che anche qui non si sa mai. E poi qua sul montante centrale trovo un comando dedicato per bloccare elettricamente gli sportelli posteriori. Anche qui fondamentale nel caso in cui dietro ci sia qualcuno che è stato per esempio arrestato e va portato in sicurezza in caserma. Prima di portarci dietro, ancora due dettagli. Il sedile è in stoffa, vi dicevo un allestimento che va dalla sostanza. Questo è un mezzo speciale, comunque sempre bello, col marchio al formio nel poggiatesta. E guardate, tappetini comunque brandizzati Giulia, mi gasano, ma in gomma. Anche qui è un mezzo operativo, bisogna proteggerlo in maniera robusta. Ma andiamo dietro perché, come sempre capita con le auto dei carabinieri, ebbè è l'allestimento più curioso, quello che stravolge di più la vettura è proprio nella zona posteriore. Cerchiamo anche di capire il perché, ovviamente, delle cose. Questa prevede di poter viaggiare non con due, ma con tre militari, con tre carabinieri. Perché appunto c'è questo divisorio di sicurezza che sigilla in maniera ermetica e assolutamente sicura il vano posteriore. Questo lato, dove ho aperto la portiera, è quello dove, teoricamente, volendo, si può sedere un militare. Cosa ce lo fa capire? Beh, intanto, che c'è il comando del finestrino elettrico, cosa che non troveremo dall'altra parte. In ogni caso, qui la Giulia è stata spogliata rispetto alla versione di serie, quindi approccio ancora più estremo rispetto alla parte anteriore. Non c'è più la comoda e raffinata panchetta della Giulia di serie. Qui c'è un molto più spartano sedile, proprio, diciamo, essenziale. Quasi tutto è in plastica e questo l'avevamo visto anche sulla Giulietta. Il perché, presto detto, qui a volte bisogna avere la necessità di lavare anche con l'idropulitrice e infatti c'è un tombino di scolo sul pavimento che permette di far defluire l'acqua facilmente in caso di lavaggi. Però, se mi seguite da questa parte, vi faccio vedere come cambia, no, il vano posteriore. Intanto non riesco ad aprirlo perché, ovviamente, c'è la chiusura sul montante di cui vi parlavo che inibisce totalmente l'apertura. Voi capite che se qui ho una persona arrestata, questo al primo semaforo, se può aprire, apre, alza i tacchi e se ne va. Ovviamente non si può fare questa cosa, ci sono due tipi di chiusura, sia elettrica sia meccanica. Questa portiera, praticamente, se non la si vuole aprire, fidatevi che non si apre. E da qui capiamo che è la parte riservata a chi deve essere condotto comunque in sicurezza in caserma perché c'è, per esempio, il dispositivo di ancoraggio, eccolo qui, con un cavo in acciaio che permette ai militari, per esempio, di ammanettare una persona anche all'esterno dell'auto direttamente. Qui, una funzionalità che, per esempio, non c'è dall'altra parte. Io provo a sedermi, anche se, ovviamente, non auguro a nessuno di finire su questo sedile posteriore. È super spartano, è rigidissimo. Guardate, qui è tutto assolutamente sigillato. Quando si fa un trasporto su quest'auto, tutti devono essere in sicurezza, i diritti di tutti devono essere garantiti, sia dei militari, sia di chi si trova qui. E quindi ci sono queste paratie che isolano completamente gli ambienti, sia dal militare che mi fa compagnia qui di fianco, sia da quelli che invece sono seduti all'avantreno, ma comunque c'è una botola qua che permette eventualmente di comunicare, di avere anche un contatto fisico. Una luce a led di cortesia che permette di illuminare questo vano. Spesso i carabinieri, no, proprio per loro natura operano di notte. C'è bisogno di avere sempre grande visibilità. Un divisorio, vi dicevo, visto che c'è anche comunque una serratura meccanica che eventualmente permette di aprire, di comunicare tra i due ambienti. Una bella novità è quella di poter avere tre militari a bordo. Si dice sempre, i carabinieri vanno in coppia, e beh, con la Giulia forse non più, perché potranno anche andare in tre. Vedete qui la maniglia che è stata inibita, perché chi si siede qua non deve avere la possibilità di sgattaiolare via, ma già che siamo nella zona posteriore, ci godiamo la Giulia, anche in questa sezione che è sempre magnifica, devo dire, e guardiamo cosa c'è nel vano. Intanto cicalini, li avete sentiti, ogni volta che si apre una portiera c'è un segnale di emergenza, o comunque un cicalino che fa capire che si è aperta una porta, non si sa mai, mica che non si debba aprire. Una rete ferma carico, dove troviamo, vabbè, catene da neve, in questo caso un estintore e un kit di primo soccorso. È una macchina che non è ancora entrata, diciamo, ufficialmente in servizio, e quindi mancano un po' di accessori. Presumibilmente qui, quando i carabinieri inizieranno a utilizzarla, aumenteranno le dotazioni. Come abbiamo visto sulla Giulietta, è possibile, per esempio, che abbiano l'etilometro fondamentale per le operazioni di strade sicure durante la notte. Il tempo a nostra disposizione in compagnia di questa meravigliosa auto dei carabinieri in blu istituzionale, purtroppo, è finito. Ma adesso voglio sapere la vostra. Siete contenti che finalmente sia tornata una magnifica Alfa Romeo dei carabinieri? Raccontatemi tutto nei commenti qui sotto, se ovviamente lo volete. Un caro saluto da Matteo Valenti, alla prossima puntata dei mezzi speciali. Grazie a tutti.